www.redigio.it e la storia continua Felice Musazzi, una vita per il teatro Per 40 anni, con la famosa maschera di Teresa, è stato interprete del teatro di Aletale Legnanese, interpretando la vita della gente umile delle case di Ringhiera. E un dì nacquero i legnanesi. Un riconoscimento era d'obbligo. Legnano non poteva continuare a cantare le lodi di un artista come Felice Musazzi, senza onorarne la memoria con un gesto tangibile. Ecco allora l'idea di un monumento in bronzo, un simbolo capace di racchiudere in sé tutta la forza espressiva della Teresa e a tempo stesso di fissarne nel tempo il ricordo. A ricordare l'artista sarà la sua stessa maschera, guardando il modello presentato dall'autore Antonio Luraghi, saltando all'occhio, e saltano all'occhio le piccole lenti, con la montatura rotonda e i capelli raccolti, che insieme alla vulpa e al tipico scussarin, costituivano il costume di scena di Musazzi. A scegliere l'opera di Luraghi, l'amministrazione è arrivata dopo aver messo regolare bando di concorso. Trenta artisti hanno presentato le loro proposte, tutte rigorosamente anonime, ma alla fine la commissione, presieduta dall'assessore alla cultura Renato Besana, ha scelto senza saperlo proprio quella di un legnanese, per di più appassionato di teatro dialettale. Coincidenza non casuale, perché del teatro dialettale Felice Musazzi fu un inventore. Nacquero i legnanesi Nato a San Lorenzo di Parabiago il 10 gennaio 1921, Musazzi si trasferì a Legnano da bambino, quando a bordo di una carretta partecipò al trasloco della sua famiglia nel cortile di Via Lampugnani, che tanto avrebbe influito sul suo modo di interpretare l'allegria e i problemi della povera gente. Come la maggior parte dei legnanesi, che non navigavano nell'oro, una volta terminate le scuole medie, Musazzi venne assunto come metalmeccanico alla francotosi. Ma a metà degli anni 30 la sua passione per il teatro lo spinse per la prima volta a salire sul palcoscenico. All'inizio furono particine filotrammatiche all'oratorio di Cielo Maggiore, poi la guerra spedì Musazzi su fronte russo, da dove tornò nel 1946 dopo anni di prigionia in Ucraina. Fin dal suo rientro il legnanese ricominciò a recitare. I primi successi servirono da incoraggiamento e così Musazzi decise di impegnarsi alla ricostituzione della filotrammatica San Genesio dell'oratorio di Legnanello. Qui inaugurò la formula che lo rese famoso. Sul palco dell'oratorio mise in scena le prime riviste. Le scene erano ambientate in fabbrica o cortili e i personaggi comunicavano tra loro esclusivamente in dialetto legnanese. Il quadro fu completato da un'ordinanza del cardinale Schuster, l'allora arcivescovo della diocesi di Milano, che aveva vietato le compagnie miste di recitare negli oratori parocchiali. E così Musazzi ebbe la felice intuizione di aggirare il divieto assegnando agli uomini della compagnia anche le parti femminili. Il travestimento accentuò l'effetto comico. E l'8 dicembre 1949 la rinata filodrammatica presentò il suo primo spettacolo intitolato E ondì nacque Legnarello. La formula ideata da Musazzi piacque subito al pubblico e presto la compagnia prese il nome di dialettale i legnanesi. Nel 58 la settima rivista Valabatel Kassem Suttuti segnò una svolta decisiva. I legnanesi debuttarono all'Odion di Milano e il successo fu travolgente. Tanto che la critica giudicò la compagnia di Musazzi un fenomeno senza precedenti. Gli impegni nei teatri del capoluogo si moltiplicarono e nel 66 la famiglia legnanese conferì a capo comico la sua tessera d'oro. Nel 70 i legnanesi che continuavano a considerarsi dei dilettanti debutarono a Sistina di Roma ma nell'86 quando la popolarità era al culmine Toni Barlocco che sul palco impersonava l'ammaviglia morì dopo una lunga malattia. Musazzi sembrò voler rinunciare al teatro ma alla fine cedette al richiamo della ribalta. Così nell'87 con La scala è mobile la Teresa spiegò che Mabiglia era partita per l'America. In 40 anni i legnanesi avevano portato in scena 27 riviste con una media di 300 repliche ciascuna. Musazzi morì nella sua casa di Legnano il 4 agosto del 1989 dopo che la malattia che l'avevo costretto a rinunciare a seguire di persone le prove della sua ultima rivista Valatranvai Grazie a tutti.